Ti aspetti Cosimo e poi anche Francesco una ripresa dell'orgoglio nazionalista in questo caso qua, perché ti faccio una domanda che non è provocatoria, è una domanda molto reale, perché tutti i ragionamenti e disamine sacrosante secondo me, ma vi aspettate una ripresa dell'orgoglio nazionalista dei partiti cosiddetti sovranisti come la Lega e i Fratelli d'Italia per esempio, perché dobbiamo partire dalla situazione, come tutte le cose se vogliamo raffrontarle in maniera realistica, dobbiamo partire dal presente, da quello che c'è. Quindi la domanda è questa, dimmi. Allora, la questione è sempre poi di coscienza, di coscienza di un popolo. Tenendo presente che io nella mia scaletta delle varie sovranità, ho stabilito al primo posto, ancora prima della sovranità monetaria politica, ho inserito la sovranità culturale, spirituale, barra massmediatica. Cioè, noi dobbiamo avere una coscienza popolare di alto livello e la capacità massamediatica di poterla comunicare al popolo. Ecco perché il tuo lavoro in questo caso è importantissimo, visto che il mainstream non ci fa passare queste idee come il tuo e come quello di tanti altri. Quindi stiamo creando un canale di comunicazione tra il sapere che stiamo diffondendo oggi e il popolo che ci ascolterà e stiamo influendo a generare nuova coscienza. Quindi sovranità culturale massamediatica. Secondo passaggio, sovranità monetaria, che rappresenta il sangue, il corpo di una nazione, e politica, capacità decisionale. Ulteriore sovranità, sovranità alimentare, barra energetica. Quindi anche capacità di potersi alimentare autonomi e energia, che abbiamo tutte le conoscenze per poterle attuare. In questo caso diventiamo un corpo solido e sano, ricco anche di anticorpi, che riesce a combattere contro questi virus che vengono dall'esterno. Non mi riferisco al coronavirus, altri virus. Che cosa è accaduto? Una volta fatto questo, noi dobbiamo lavorare nel far infondere nella popolazione quello spirito patriottico. Lo dobbiamo fare perché è la nostra radice storica culturale che ci dà la forza e anche spirituale dei popoli italici. Tieni conto che noi abbiamo la nostra cultura fondata sulla filosofia greca, diritto romano e duemila anni di valori cristiani. Sono, diciamo, la forza che ha fatto sì che l'Italia diventasse un paese da esempio per il mondo nella storia. Da sempre. Siamo dei popoli veramente eccellenti, soprattutto presi singolarmente. Abbiamo il problema della divisione. Questo è vero e dobbiamo cercare di sorpassare le nostre divisioni, che vengono anche fomentate. Ulteriore passaggio. Quando consapevolizziamo come popolo la forza della patria, e qui ora uso un altro termine, non solo patria, che lo dobbiamo riportare in auge come nome, come terminologia, perché ci hanno detto che il termine patria doveva uscire fuori dai canoni del dialogo, perché se nomini la patria sei quasi un fascista. Sei uno, sei troppo chiuso, sei un razzista. No, termine patria e aggiungo come viene definita madre patria, fondamentale. Quindi padre e madre. Madre patria, perché troviamo in effetti le due energie anche qui. Se non partiamo dai presupposti filosofici, spirituali, non avremo quella ribalta culturale e morale del popolo, che il popolo poi fa nascere quella classe dirigente politica, che ha il coraggio, ritornando e ribadendo quello che ho detto prima, la capacità di dire sono italiano, anche un politico che si deve confrontare con un politico estero, sente di avere dietro un popolo forte che lo sostiene e ha la forza di andare con le spalle dritte e il petto in fuori carico del suo orgoglio. Ecco perché oggi abbiamo dei politici che camminano con le braccia avanti, piegati, perché spiritualmente non sono retti da nulla, hanno il nulla assoluto, hanno dietro. È salita, la mediocrazia è salita e l'oligarchia bancaria ha finanziato e ha voluto che salisse la mediocrazia, appunto perché erano quelli facilmente dominabili, perché erano i più facili da tradire poi la patria. I traditori della patria sono andati al governo, al governo o nella classe dirigente. Chiarissimo, chiarissimo Cosimo, volevo solo notare che il linguaggio alla fine è sempre trasparente, perché quando dici madre e patria vuol dire mater e pater, quindi entrambe le componenti, il linguaggio è trasparente. Volevo fare un'ultima considerazione, anzi poi cedo la parola a Francesco, Francesco Veronese, volevo anche dirla prima, ma il fenomeno del coronavirus, pensate ho letto un articolo ieri sulla Repubblica, è incredibile, ci sono dei cenni, come ci dice, si dice c'è vita, forse c'è vita anche nel mainstream, perché Repubblica ieri faceva una disamina dicendo che il coronavirus ha permesso di portare in evidenza il fatto che probabilmente il modello globalista basato sui mercati probabilmente non è quello giusto. Questo l'ha scritto Repubblica, io direi che forse c'è vita sul pianeta mainstream, forse c'è vita. No, no, in effetti, ora, compreso in effetti, poi do la parola a Francesco, non voglio monopolizzare oggi. Hai detto una cosa sacrosanta perché alcune dichiarazioni che vanno in questa linea, l'ho ascoltata pure io anche in tv, nei vari talk show che stanno facendo, sembra che questa enorme crisi abbia fatto prendere alcune consapevolezze, non dico totali, a questa gente che è stata completamente promotrice del nuovo ordine mondiale, del globalismo. Stanno capendo che evidentemente questo mondialismo così sezionato, dove il lavoro doveva essere sezionato, che bisognava andare a badare solamente all'efficienza e al taglio dei costi del lavoro, perché magari mandiamo il lavoro in Cina così si paga di meno, i prodotti costano di più, abbiamo più margini di guadagno. Questo meccanismo ha mostrato tutte le sue defaianze e anche loro si stanno rendendo conto, si stanno rendendo conto. Ecco perché forse ci sarà un passo indietro da parte di tanta gente che l'ha sostenuta in questi anni. Certo e probabilmente il fenomeno del coronavirus in Italia permetterà un po' di riparametrare in tutti noi la scala dei valori e quello è fondamentalmente. Francesco, hai una considerazione finale? Perché poi passiamo all'altra parte epocale, perché in questo momento storico ha un valore particolare, l'esercitazione militare USA in Europa ad aprile. Hai una considerazione finale intanto per chiudere? Guarda, brevissimo perché non voglio dilungarmi oltre. Sicuramente c'è questo riscatto, questo desiderio di riscatto da parte nostra e non vale solo per noi, perché un po' di coscienza ce l'hanno un po' tutti. Però io vorrei anche tenere presente, visto che mi sono occupato anche in questi ultimi tempi di analizzare le organizzazioni che attualmente controllano la nostra nazione a favore del pensiero unico, a favore della globalizzazione, vi assicuro che entrando in quei meandri c'è da restare perplessi, perché questa gente in tanti anni è riuscita a creare organizzazioni molto articolate e potenti, agganciando personaggi di grande importanza nella nostra economia e politica, che ha creato una rete di interessi, una rete di connivenze, una rete di partecipazioni reciproche, una lobby talmente capillare. E adesso non voglio qui entrare in certi argomenti, però se domani vorrai dedicare una trasmissione su queste cose credo che parteciperei volentieri se tu mi invitassi. Sono cose che lasciano perplessi, ma direi che fanno anche paura sotto certi aspetti, perché entrano proprio nelle zone nevragiche della nostra economia, della nostra finanza, della nostra politica soprattutto, e si capisce perché l'Italia in questi 40 anni ha fatto quello che ha fatto, cioè ha svenduto se stessa. Io vorrei chiudere qui, un invito ad approfondire questo tema. Lo faremo senz'altro, lo faremo senz'altro. È una roba tremenda.